Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video parlerò di una tematica un po' particolare che da quest'anno è entrata in vigore nella nostra serie A, ossia quella delle fasce da capitano. Come sappiamo, negli scorsi anni c'era la possibilità per ogni capitano delle squadre di fare una fascia personalizzata, cioè una fascia in cui potevano disegnare qualsiasi cosa, una fascia dove potevano fare delle dediche, delle frasi, dei disegni, quello che volevano assolutamente perché era proprio personale, mi viene in mente quello più caratteristico da questo punto di vista era sicuramente il Papu Gomez, mi ricordo la fascia con Oli e Bergi, la fascia con la foto della famiglia, insomma queste cose un po' così, personalizzate come ognuno voleva, ogni settimana avranno una fascia diversa, soprattutto come ha detto il Papu Gomez. Da quest'anno però hanno deciso di modificare questa cosa, hanno deciso che ogni capitano di tutte le squadre avrebbe dovuto utilizzare una fascia identica a quelle altre, nel senso che ogni squadra aveva lo stesso tipo di fascia, ossia una classicissima fascia bianca con scritto capitano, copiando clamorosamente la fascia adottata da Primora in Inghilterra, quindi abbiamo copiato questa cosa dagli inglesi, ma ci può stare, cioè nel senso gli inglesi possono essere anche un bel esempio dal punto di vista calcistico, dal punto di vista di come giocano, dal punto di vista di tante tante cose, quindi insomma alla fine ci può anche stare. Quello che dico è che alla fine, secondo me, questa qua era una cosa che comunque funzionava, una cosa goliardica, una cosa carina, una cosa simpatica, che poteva anche rimanere così, senza andare a cambiarla, c'erano altre cose da cambiare, e proprio per questo ci prendono per il culo i tedeschi, tedeschi che dicono a quanto pare che praticamente con tutte le cose appunto che abbiamo da cambiare e andiamo a focalizzarsi sulla fascia, cioè più o meno lo stesso discorso che ho fatto io, però il problema è che i tedeschi devono farsi i cazzi loro, e quindi dico hashtag Fabio Grosso e pensate alla vostra Bundesliga che fa cagare. Quindi di conseguenza, insomma, ognuno si fa i cazzi loro. Comunque diciamo che il caso più eclatante di questa, diciamo, protesta, tra virgolette, a parte che è una protesta che ha colpito praticamente tutti i capitani, anche perché penso a sempre il Popo Gomez che aveva la fascia troppo larga e quindi gli cadeva, quindi diciamo che deve essere una cosa che per essere adottata deve funzionare perfettamente, quindi avere diverse misure, di avere diverse fasce, diverse cose, non lo so sinceramente, però insomma deve funzionare in maniera perfetta. Il caso più eclatante però, il caso più clamoroso è quello che riguarda la Fiorentina, Fiorentina che praticamente già dall'anno scorso, dopo la morte purtroppo di Astori, ha deciso di dedicare la fascia al loro ex capitano, con una frase, mi sembra se non sbaglio, e non mi ricordo se è una frase, l'iniziale e il numero, mi sembra una cosa del genere. E ovviamente da quest'anno non avrebbero più potuto adottare un tipo di fascia come quella, una fascia dedicata al loro, appunto, ex capitano. Però a quel punto sembra che Biraghi abbia dichiarato che se ne sarebbero fregati, nel senso che loro avrebbero comunque utilizzato quella fascia, e se gli avessero fatto una multa se ne sarebbero fregati. Ed è un discorso che ci può anche stare, perché comunque è una cosa molto importante per loro, giustamente, e quindi ci può tranquillamente stare. Tomasi, come risposta a questo, ha detto praticamente che basta chiedere un permesso alla federazione per poter utilizzare delle fasce modificate, personalizzate. E' chiaro che dipenderà probabilmente dalla cosa, nel senso che in questo caso ci può anche stare che autorizzino, in caso contrario, magari come le fasce ironiche che avevano tanti capitani l'anno scorso, in quel caso potrebbe essere respinta la richiesta, quindi dipende un pochino da caso e caso. E' chiaro che però se permette a uno di fare una personalizzazione, poi giustamente gli altri iniziano a storcere un po' il naso, quello che un po' avviene in tanti ambiti della nostra vita, no? Se dai il permesso a uno, devi dare il permesso anche agli altri. E quindi è una situazione veramente molto, molto difficile, che però ci sono enti competenti e persone competenti in grado di risolvere queste questioni. Comunque, a dirla mia, sinceramente, come ho detto prima, io penso che questa cosa qua era una cosa che funzionasse bene, era una cosa simpatica, che quindi potevano anche non modificare. Dal momento in cui la modifichi ci può stare, da un tocco di classe in più, però la Serie A non è un campionato da questi tocchi di classe, secondo me. È un campionato più tranquillo, più blando. Invece in Inghilterra sono un po' più impostati, quindi di conseguenza li capisco di più. Noi attualmente mi fa un po' storcere il naso questa nuova cosa adottata, però comunque probabilmente ci farò l'abitudine, è questione di occhio, come tante cose. Quindi vedremo cosa succederà e vedremo se mi abituerò, vedremo se vi abituerete e se ci abitueranno. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per la visione, vi invito a mettere un mi piace per sostenere il mio canale, vi invito a scrivermi nei commenti la vostra riguardo appunto questa faccenda delle fasce da capitano e vi invito a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su ciò che succede nel mondo del calcio nazionale e internazionale. Detto questo, io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Grazie a tutti.